Mister, buonasera, le chiedo un commento sui protagonisti di questa partita, cioè gli undici giocatori del Milan fino all'espulsione di Chessy e mi sembrava una prova incredibile e poi l'arbitro che con l'espulsione di Chessy e con l'ultimo episodio che abbiamo appena rivisto e ci appare un po' dubbio ha condizionato inevitabilmente questa che poi è diventata una sconfitta. La risposta è facile, abbiamo giocato una grande partita, questo sicuramente perché abbiamo creato, siamo stati in squadra con ritmo, con qualità, con intensità, abbiamo creato subito pochissimo, anzi quasi nulla, eravamo dal campo si vedeva, si sentiva, avevamo un padone nel campo e quindi la prestazione dei primi undici giocatori della squadra è stata sicuramente una prestazione che ci doveva dare grandissima fiducia e grandissima convinzione della nostra qualità, poi è chiaro che dopo le decisioni dell'arbitro, si Frank ha fatto un fallo, si, che forse si può anche evitare in quella zona del campo lì, ma ha fatto un fallo di gioco, non sicuramente da meritare un secondo giallo e non sicuramente da poter lasciare una squadra in Champions League dopo 30 minuti in dieci, secondo me ci sono dell'arbitro e poi il rigore c'è, non c'è, è stato così veloce, come appena visto ha fischiato, vabbè, però peccato, peccato e il rammarico c'è perché potevamo comunque portare a casa un risultato positivo che avremmo meritato per lo sforzo che hanno fatto i miei giocatori e per il sostegno e calore che i tifosi ci hanno dato durante tutta la giornata. Stefano, buonasera. Buonasera. È evidente che ti senti scippato da questi punti perché anche il pareggio sarebbe stato importante per la classifica. Volevo chiederti, visto che comunque già hai risposto lungamente su questo argomento, le condizioni di Brahim Diaz perché c'è preoccupazione, almeno per come è uscito, se ci puoi dare almeno su di lui qualche rassicurazione. Ma Brahim soffre di una tendinita al ginocchio, ma è una cosa, tra virgolette, non so, cronica, nel senso che ogni tanto ce l'ha e ci sta lavorando. Si è acutizzato nel secondo tempo, spero, adesso abbiamo qualche giorno in più per recuperare, spero chiaramente che possa recuperare per domenica sera. Adesso è necessario recuperare tutte le energie possibili e fare l'ultimo sforzo per finire bene questa prima parte di campionato perché poi dopo avremo la sosta, avremo il momento giusto per recuperare le energie e mi auguro anche i giocatori. Perché oggi c'era la dimostrazione che c'è bisogno di tanti giocatori e c'è bisogno di tanti giocatori forti perché poi le partite cambiano e perché poi cambiare anche la squadra può essere molto importante. Grazie a tutti.